Ma io ero un'altra menata. Ma io ero due? Eh. Perché? Mi hai curato il cioccoletto. Che cazzo, capisci? Mi giravano questa e non gira. Non gira? Non gira, non giravano trappi. C'è il retucco, dai, dai! C'è il retucco! Non ho capito... Non ho capito... Gira. Eh? Non gira. In che senso non gira? Con trappi, non ho girato. Mi cacciava tanto altro senso. Eh? Ma in che cosa? C'è il retucco. Ma chi? Il retucco. Il retucco. E saltava addosso a che cosa? Alla scrofa. Alla procedura. E non girava che cosa? Una trappa. L'ho fatto apposta. Ma non è che è malato il retucco. Ma non è che è malato il retucco. Ha venuto pure! Ha venuto pure! Ha venuto pure! Ha venuto quasi tre contavoli. Eh? Ha venuto quasi tre contavoli. Ah quindi adesso non ne hai più? Come? Come! 5%! Ah? e me